Se ti serve un gruppo per giocare con qualcuno, fare glitch, scambiare o fare anche raduni ti ricordo di entrare nel mio gruppo Telegram, è il più grande in Italia, link in descrizione Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video e come vi ho detto dal titolo andiamo a vedere la nuova auto che Rockstar Games ha incasinato come vedete sicuramente alcuni di voi la riconosceranno comunque prima di cominciare mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdervi i migliori contenuti e le migliori novità su GTA Online e seguitemi anche su Instagram, link in descrizione mi raccomando per rimanere anche aggiornati lì sempre su Instagram e poi come al solito la trovate su Legendary Motorsport nella sezione 3 porte ovviamente non ho fatto nessun glitch per averla in questo modo però ragazzi quest'auto è diventata blindata quindi io vi consiglio di comprarla in questo momento come vedete costa 975.000 dollari, anzi sì 975.000 dollari personalmente lo considero un ottimo veicolo perché comunque di stile mi piace magari ma quelli sono gusti personali però anche a livello di prestazioni non è male e guardate qui questo qui ragazzi è appena arrivato dal sito e come vedete è blindata praticamente i vetri non si rompono e sarete invincibili all'interno di quest'auto ce lo conferma TestFans2 rituitando questo tweet di un certo Dominic che praticamente hanno incasinato questa Stirling GT hanno inserito nuove livree sul veicolo e quindi praticamente hanno reso diciamo i vetri antiproiettili ovviamente non resiste alle esplosioni e poi lo andremo a vedere quindi è praticamente una Kuruma blindata penso più veloce e non lo so magari più carina non ne ho idea comunque quelli sono gusti come vedete qui è entrato un tizio random e vi faccio vedere che siamo letteralmente invincibili adesso vi farò vedere anche le modifiche di questo veicolo che sono tante è un veicolo abbastanza vecchio sicuramente molti di voi ce l'avranno visto che lo davano anche con il casino un po' di tempo fa come vedete il tipo sta dentro e non muore vi ripeto non dovete fare alcun passaggio vi basta avere insomma il veicolo se lo comprate bene se già ce l'avete meglio perché appunto la modifica diciamo sarà già applicata perché è un casino che ha fatto proprio Rockstar quando stava aggiornando il DLC l'avranno già fatto con un altro veicolo del DLC DLS Tuners praticamente era diventato una Kuruma vale la pena comprarla secondo me ragazzi sì perché probabilmente fixeranno questo bug tra qualche mese se non col prossimo DLC perché l'ultima volta ci hanno messo un sacco di mesi proprio se ne erano dimenticati e non ne sta parlando nessuno quindi a maggior ragione come vedete qui ho messo anche le ruote antiproiettile e quindi ragazzi questo qui è un ottimo veicolo anche per fare le nuove missioni dell'agente ULP perché? perché molte ragazzi per fare insomma quelle missioni vi danno quel veicolo lì nuovo che per carità molto carino ma non è antiproiettile alcune missioni ragazzi sono veramente fastidiose soprattutto se le giocate in modalità difficile come vedete non resiste ai razzi però già per esempio per le missioni di ULP che nel 90% dei casi hanno i buzzard che vi inseguono che sparano solamente niente missili potrebbe essere veramente utile quindi come vedete test con il razzo e test con appunto il C4 con la bomba adesiva non è cioè anzi è esplosa quindi non ha resistito insomma a questi due come vedete qui c'era un tizio random che mi stava sparando e ha ricevuto la sorpresa ovviamente non rischiate ban anche se vi segnalano perché è un errore di Rockstar voi non state facendo nulla voi avete solamente il veicolo è un casino che hanno fatto loro voi non state facendo alcun glitch alcun bug insomma non state facendo veramente nulla e come vedete potete ovviamente anche sparare dal interno e quindi questo qui l'abbiamo fatto fuori quindi è a tutti gli effetti una Kuruma con la insomma con la miglioria di prestazioni e col fatto che potete lanciare anche il C4 che dalla Kuruma insomma è un attimo difficile ragazzi spero che questo video brevissimo aggiornamento vi sia stato utile vi ringrazio della visione e noi ci vediamo al prossimo video